Dagli Stati Uniti a Giffoni-Valle Piana. La passione per la moda del book crossing cresce anche nel territorio picentino. Si tratta di uno scambio culturale sostenibile alla base della moda americana di raccolta e condivisione gratuita di libri. Questo sistema funziona già in moltissime città del mondo, dove la condivisione del libro avviene in posti impensabili e sovraffollati, come mezzi pubblici, parchi, cabine telefoniche e centri commerciali. L'associazione culturale Place, guidata dal presidente Luca Tesauro, ha così lanciato il progetto Book Sharing, la banca del libro a Giffoni, con l'intento di promuovere la cultura a costo zero attraverso la condivisione di libri. Sono circa tre settimane che avete iniziato la raccolta. A che punto state? Fino adesso abbiamo raggiunto circa 300 libri, però è chiaro che nel periodo natalizio vorremmo ampliare un po' la nostra libreria. Stanno arrivando nuove iscrizioni, ci stanno portando anche dei fumetti, quindi delle graphic novel, dei libri di viaggi, libri di cucina. Siamo ancora in fase iniziale, però il progetto sta prendendo piede molto bene a Giffoni Valepiana. Grazie anche al sito che abbiamo fatto apposta, si chiama labancadelibro.it, dove è possibile consultare il catalogo e anche richiedere dei testi in consultazione. Il meccanismo è semplice. Basta aderire all'iniziativa condividendo almeno cinque libri che saranno catalogati nel database della Banca del Libro. I libri saranno custoditi dall'associazione Place e saranno dati in prestito solo ai lettori che aderiranno all'iniziativa. Gli iscritti potranno prendere in prestito alcuni dei libri disponibili da restituire poi entro 30 giorni. Ad un anno dal prestito il proprietario potrà rinnovare la propria adesione o richiedere la restituzione dei libri. Numerosi i punti di raccolta individuati nel centro cittadino. Abbiamo per il momento istituito quattro punti di raccolta che sono qui in piazza Umberto I, appunto al Circolo La Mano dei Dios, alla Cittadella del Cinema, presso l'ufficio Stampa, a Bassi e alla Piazzetta da Giuseppe Marrandino che è un altro dei personaggi che sta aiutandoci a costruire questo progetto, da Agri Garden in via Tesauro e dal Tabacchino in piazza. Poi cercheremo di creare anche altre location perché il principio fondamentale è quello di non fare una libreria ma creare dei punti di incontro magari anche come questo circolo dove la gente può andare lì e prendere un libro oppure portarne altre. Quindi una sorta di delocalizzazione della libreria fondamentalmente. La regola del gioco dunque è sempre la stessa, scambiare il proprio libro preferito con quello di un altro proprietario. Se poi tutto ciò avviene tra strani, poco importa. Anzi, forse è proprio qui che sta il bello.